Benvenuti a tutti sul nostro canale, e grazie per i vostri sempre presenti, mi piace. Si sta vivendo un momento di trasformazione nella casa Mediaset, specialmente dopo la prematura scomparsa, di Silvio Berlusconi. Suo figlio ha in mente un nuovo assetto e molte novità. Pier Silvio Berlusconi sta lavorando instancabilmente, per ridefinire l'offerta televisiva di Mediaset, e questo è un argomento di discussione, da diversi mesi. Ci sono molte cose in fermento, i volti dei programmi, stanno cambiando, le trattative sono in corso e la nuova stagione, che prenderà il via a settembre, promette una vera rivoluzione, nelle diverse fasce di programmazione. In mezzo a proteste, discussioni più o meno private, e scambi accesi sui social media, adesso le carte sembrano essere state scoperte, almeno in parte. La mossa di Pier Silvio è quella di anticipare la messa in onda di un nuovo formato, che verrà completamente rinnovato. Dopo tutte le polemiche, si avverte nell'aria, una sorta di scommessa. Il figlio dell'ex premier, scomparso solo pochi mesi fa, ha deciso di attuare questa strategia dopo aver posto fine a contratti importanti che si erano rinnovati, per tanti anni. Si respira aria di innovazione, e il pubblico è curioso di scoprire cosa vedrà, sul piccolo schermo dall'autunno in poi. La rivoluzione Mediaset, sembra confermata, almeno per quanto riguarda Canale 5. Una notizia, che ha fatto molto discutere è che Mirta Merlino, prenderà il posto di Barbara D'Urso, alla conduzione di pomeriggio 5. Già sulle reti social sono state condivise alcune foto in cui sembra essere al lavoro sulla nuova edizione del programma. Ma l'aspetto importante è che pomeriggio 5 inizierà ufficialmente il 4 settembre, sempre sulla stessa rete. Quindi, manca davvero pochissimo per vedere come il pubblico reagirà a questa nuova veste del talk show di intrattenimento e informazione che va in onda nel pomeriggio. Come accoglieranno gli italiani questo cambiamento? Berlusconi, sta pian piano confermando le diverse idee, da Rete 4 a Italia 1, cercando di infondere nuova linfa alla rete, a cui il padre teneva molto, e che ha segnato molti anni della sua vita. Ora il via libera e i suoi programmi sta avvenendo con discreta velocità, e solo tra qualche mese si potrà giudicare se le sue decisioni saranno state vincenti o meno. Berlusconi ha promesso meno trash, meno leggerezza e una TV più concreta, senza però dimenticare lo svago e i glamour, misto al gossip. Il pubblico sembra aver dimostrato un calo di interesse verso alcuni format, anche se Mediaset non lo ha dichiarato apertamente. Forse siamo schiavi dell'abitudine. Ora osserviamo cosa ci riserva il futuro. Grazie, a tutti coloro che hanno guardato il video. Vi invitiamo a premere il pulsante mi piace e a commentare per ricevere le ultime notizie. Per rimanere sempre aggiornati, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale. Grazie. Grazie.